La terza e ultima domanda è questa. Giorgio cita molto spesso i salmi da usare, ma io sono un po' così, non so, sono un po' confusa. Io so che i salmi sono stati fatti verso Yahweh, verso il Dio Biblico. Ovviamente ogni religione crea un suo egregore, questo egregore viene presieduto da un'entità. Ma è come dire Gesù e Cristo, sono due cose completamente diverse. Cristo è l'eternità, è il logos pneumaticos originale che presiede, anche se non fosse mai esistito il cristianesimo, alla funzione dell'irradiazione solare archetipale. Joshua ben Joseph, cioè Josue, figlio di Giuseppe, detto Gesù dagli amici del bar del Giambellino, perché Gesù in ebraico non esiste, è stato il veicolo di cui questa forza si è servita per compiere una missione. Ma nel momento in cui si adora il Cristo patente, come piace tanto al Gesuita apostata che sta a Roma, si adora Narconte, la stessa cosa, perché è una nomenclatura egregolica. Cristo è un'altra cosa. Nella genesi dei nomi, dall'antica Grecia ad oggi, perché il cristianesimo paurino nasce in Grecia, c'è stata questa deriva dal Christos, Pantocrator, che era il titolo dell'epopta dei misteri, al Creistos, per avvicinarlo alla figura del nuovo mistero, che poi è diventato Christos con l'H, a cui è stato aggiunto ulteriormente Iesuous Christos, quella E e la O vuol dire l'unione del maschile femminile, poi, come al solito, le donne hanno rotto i coglioni, state sempre in mezzo, e allora vi beccate Iesus al maschile, basta. Vedete qual è il giochino? Quindi bisogna andare alle radici di queste cose. Dopo ci hanno dovuto rimettere in immagine femminile, no? Il buon Pionono, perché gli stava crollando l'impero materiale, col risorgimento, allora hanno riabilitato Maria, con tutta la teologia mariana, presa da dove? Presa dai misteri greci, anche quella dalla Sofia, dalle concezioni ignostiche, tutto quanto. Una lavatina, tinta nuova e il discorso è quello. Quindi attenzione a questi discorsi, perché se buttate via l'acqua col figliolo dentro, sono cavoli vostri. Se voi sapete come funziona a questo settaggio, a questi stratici passati in mezzo, se no ne rimanete prigionieri, ma questo vale in qualsiasi tradizione. In qualsiasi tradizione. Perché? Perché l'aspetto religioso serve per le masse. E alle masse non gli poi spiega i misteri, punto. Beccate questa religione, siate buoni, non rompete i coglioni soprattutto, obbedite, date i soldi e salverete l'anima. In realtà ve la dannate, ma questo è un problema relativo. L'esoterismo serve a chiarire questi punti, non fai salotti. Allora, anche, ho mandato agli amici un filmato proprio ieri notte sulla chiesa dei vecchi credenti russi, che è impressionante, per vedere la fede vera delle persone. Quello di Erzo, che è famoso, non le campane che suonano dal profondo. Vedi quelli, dice, ma queste cose non le sanno. Non le sanno, non c'è problema. Perché loro, nella loro teologia, hanno questi semi, anche se occultati, e quando pregano, pregano gli archetipe e non gli arconti. Quindi dipende da come vengono gestite le informazioni. L'esoterismo nasce per spiegare queste cose. Non per fare i saluttini, lo so io, ah, quanto è buro, no? Ah, vedrai, io sono stato in India, sono stato qui, sono stato là. Ho ricevuto dei servizi fotografici, ultimamente dall'Oriente, gli amici che stanno lì, e purtroppo, purtroppo, mi vuole dirlo, persone che sono state tanti anni a contatto anche con maestri ragguardevoli, insegnamenti profondissimi, passato un certo tempo, lo vogliamo dire in francese, se sono rincoglioniti. Non riconoscono nelle infigi dei templi le divinità, nel senso tecnico, non delle divinità mondane, che per anni hanno venerato e hanno praticato sotto questi maestri. se mi dici che la Vergine de Katmandu, la Cali Kumari, è una che è andata dal parrucchiere e ha lasciato sotto il casco troppo tempo, in pratica, perché è diventata tutta nera, è un problema serio? Le nozioni, se non sono applicate, non servono a niente. E nel cercare le nozioni, cercate sempre le fonti in modo accurato. Ok? Perché Gesù sente il bisogno di dire al Padre, una volta sulla croce, perdona loro perché non sanno quel che fanno? Che bisogno c'è di dirlo? Poi, se non voglio giudicare, ma seconda domandina, perché la volontà del Padre è quella che Gesù finisca sulla croce? Bene, bene, molto bene. Allora, Gesù assolutamente non ha detto una cosa per fare bella figura. Quella non è un'affermazione, come viene interpretata oggi, di perdono alla volemose bene, non ha nessuna necessità. Anzi, quella frase è il segno del trionfo di Gesù sulla croce, che, come era realmente all'epoca, non era la croce che vedete attaccata nei crocifissi, erano pali fissi, supportati, con la punta così, aperta a Y. Il condannato veniva legato o inchiodato alla trave orizzontale, quella che viene portata, per esempio, nella vulgata sul Calvario, dopodiché, con le carrucole, li tiravano su e li mettevano a forcella, quindi la forma reale della croce era una T, una Tau, scelta apposta dai romani per infamare gli ebrei, per irriderli. Perché? Nella tradizione cabalistica, la Tau, Tav in ebraico, è l'unica lettera, come ho letto altre volte, che è separata dal resto delle lettere dell'alfabeto sacro. Ci sono venti lettere, come in un mandala. Intorno c'è la lettera Shin, che ruota incessantemente, è un fuoco distruttore per l'esterno, per impedire che i gusci, le forze squilibrate, si impadroniscano di quelle lettere sante, per creare la loro magia oscura. L'unica lettera che sta fuori sotto a questo cerchio di fuoco è la Tav, che è l'iniziale di Torah, Tikkun e Teshuva. Torah è la legge di Dio, Tikkun è la riparazione di tutti i peccati, le colpe commesse, quindi la purificazione, Teshuva è il ritorno alla fonte celeste. Quindi Gesù Cristo, quando ha pronunciato questa parola, ha fissato per sempre il suo passaggio dalla dimensione materiale in cui era apparso, il superamento di queste tre necessità, il superamento del mondo fenomenico, perché è entrato definitivamente nel fuoco di Shin. Infatti la Shin è anche il simbolo del Cristo, che ruota, cioè ha attivato l'aspetto interiore della Shin, che è Rakamin. Rakamin vuol dire la misericordia divina. Quando ha pronunciato quella frase, lui era entrato in quel fuoco, e aveva dissolto tutto quello che lo legava a questo mondo, e ha testimoniato la sua realizzazione, la sua trascendenza, proprio con quella frase. Perdona a loro perché non sanno quel che fanno, ma non perché io so buono che voglio perdonare, perché io sono diventato la misericordia divina definitiva. È il suo stato di realizzazione che si manifesta come misericordia. La giustizia è finita. Tutto è stato riequilibrato, tutto è stato purificato, tutto è stato ristabilito nel suo ordine divino. Torah, mediante Tikkun, la giustizia, cioè riportare a ciò che è giusto ogni cosa, compresi i peccati degli altri, come via espiadoria, e ha fatto teshuva, ritorno. E dalla condizione del ritorno, di Rakamin, ha emesso queste parole. La conoscenza di cui parla non è sapere chi era lui, chi non era lui, quello che sapeva fare, eccetera. La conoscenza, la conoscenza dei principi metafisici divini. La gente li ignora, non fa qualcosa coscientemente contro questi principi, segue su la sua ignoranza, e per cui vengono perdonati da Rakamin, non da colui che era chiamato Gesù Cristo. Quanto alla necessità del padre? Il padre non ha nessuna necessità, il padre non ha mai costretto Gesù Cristo andare sulla croce, questa è un'idiozia. Se almeno uno si ascolta le messe normali di una volta, si dice proprio ante sacrificium, prima dell'offerta eucaristica, che lui, nella notte della sua passione, scelse liberamente, scelse liberamente, senza alcuna costrizione, il sacrificio. Dov'è che se ne parla? Nel Vangelo, quando viene riportata la notte sul Getsemani. Cristo suda sangue, suda sangue, perché sente arrivare l'ora. E che cosa dice? Padre, se è possibile che questo calice sia allontanato da me, ma non la mia, sebbene la tua volontà sia compiuta. Se fosse stato costretto, non sudava sangue, non faceva domanda, andava al martiglio, punto e basta. Lui lì poteva dire e non ce la faccio, mi tiro indietro. Ha rimesso nelle mani del padre l'ultima scintilla di personalità, Dio. Accettando il sacrificio, ma l'ha scelto liberamente. C'è nessuno che l'ha costretto. assolutamente. Suda sangue, perché il sangue, come insegnava anche Rudolf Steiner, è il veicolo dello spirito nel corpo umano e quindi lui effonde ancora prima della crocifissione la sua potenza spirituale attraverso il sangue che esce da tutti i pori. quello è il sangue dell'Io che è trasformato in luce. Poi ci sarà il sangue del sacrificio su Golgotha che è a altro livello ancora. Quindi non non c'è stata nessuna costrizione. È stato un atto eroico nel senso greco. Quello che facevano i comandanti romani in battaglia quando vedevano che le sorte erano incerti si scagliavano da soli tra le file nemiche combattendo fino ad essere uccisi si chiamava Devozio e quello assicurava la vittoria a Roma. Sempre è stato così. Ma per farlo devi essere a quel livello. Se no ogni cretino che si fa saltanaria con la macchina facendo il terrorista è un eroe. No. È un assassino basta, squilibrato. Ok? Giorgio scusa ma se il padre non ha nessuna esigenza perché c'è bisogno del sacrificio? Perché l'era dei pesci richiedeva quello. È il tempo degli dei sacrificali che sia Osiride sia Tammuz sia Cristo sia Odino il pesce è il segno sacrificale. Ma a che serve questo sacrificio? Cioè che è il sacrum facere del sacrificio che pensano gli scoppiati nelle varie religioni. Sacrum facere rendere sacro tutto ciò che è connesso con quella entità. Il sangue è il veicolo d'ospiro ti ho detto più che più che dà il sangue che devi fare perché lì è una conflagrazione anche astrologica che se non c'era lui erano già spariti tutti perché il segno dei pesci chiude lo zodiaco quindi devi entrare in un altro mondo altri 2160 anni retti da quella forza poi quando ci sarà un momento ne arriverà qualcun altro se spera ma questo gli angioletti con l'arpetta non funzionano sono cose serie queste questo video dietro le quinte continua nei contenuti per abbonati abbonarsi è un modo per aiutare la libreria grazie del tuo sostegno grazie di esserti iscritto al canale e grazie agli abbonati che sostengono il nostro lavoro abbonarsi è un modo per vedere tanti video speciali in più e per aiutare la libreria e da oggi con il nuovo pulsante grazie potrai aiutarci nei nostri progetti partecipando alla raccolta fondi cerca sotto ogni video il pulsante con la scritta grazie